Grazie Presidente nell'augurare al Ministro Crosetto una pronta guarigione rispetto a quello che gli è accaduto. Non posso che reiterare con forza, con estrema forza, la richiesta di informativa fatta circa dieci giorni fa per il quale non abbiamo avuto nessuna risposta dal Ministro con i rapporti del Parlamento rispetto all'invio di missili da noi reputati, ma anche dal Ministero della Difesa, reputati offensivi senza un passaggio parlamentare. È evidente che le strategie del Ministro Lollobrigida di organizzare delle scene per fermare le guerre non stanno funzionando e stiamo chiedendo come mai c'è stato un invio, abbiamo appreso dal Ministro inglese, un invio di missili che la stessa difesa classifica come armi strategiche in grado di modificare le sorti di un conflitto con attacchi in profondità. L'altro ieri, Zelensky, su un'intervista a Reuters, ha detto che sta negoziando con i partner internazionali per usare le loro armi per colpire in profondità all'interno del territorio russo e non si sa quali sono questi partner internazionali. In questo momento, nelle prime pagine dei giornali, si parla di Stati Uniti che sta dando dei permessi per l'utilizzo di queste armi all'Ucraina. Questo Parlamento non sa nulla. E non sa nulla, ce lo spiega proprio il Ministro Grosetto in TV, che dice che l'invio di armi in Ucraina non è un argomento di discussione da assemblea parlamentare. Cosa? Non è un argomento di dibattito parlamentare. L'invio di armi. Allora, se il Ministro Grosetto o il Presidente Meloni vi reputa incapaci di dibattere dell'invio di armi all'interno di una guerra in Europa, questo è un problema vostro. Per quanto ci riguarda, questo è un tema proprio da dibattito parlamentare così come lo stiamo pretendendo. E vogliamo anche sapere dal Governo perché siamo l'unico Paese ad avere un segreto sull'invio delle armi. Vorremmo sapere perché i cittadini tedeschi possono da un sito sapere quale armi il Governo tedesco invia. Vorremmo sapere perché i cittadini francesi, i cittadini spagnoli, i cittadini statunitensi, i cittadini inglesi possono sapere dal loro Governo quali armi stanno inviando e i cittadini italiani lo devono sapere da un Ministro inglese. Questo non è più tollerabile. Siamo alle porte di una guerra mondiale che può iniziare a casa nostra. Questo atteggiamento non si può più tollerare. Il Movimento 5 Stelle lo contrasterà in ogni forma. Regolamento parlamentare o non regolamento parlamentare non ce ne frega niente. Poi buttateci fuori, fateci sanzioni, fate quello che volete. Noi pretenderemo una risposta politica in questo Parlamento perché vogliamo sapere perché i cittadini italiani non sono stati avvertiti e come vi siete permessi di non passare dal Parlamento per l'invio di armi offensive. Vogliamo sapere perché siamo l'unico Paese ad avere il segreto, perché vi iaccamente vi siete astenuti in una risoluzione ONU che favoriva il riconoscimento dello Stato palestinese, cosa che governi come Irlanda, la Spagna, la Norvegia stanno facendo. Vogliamo sapere perché continuiamo a guadagnare sul sangue dei civili palestinesi vendendo delle armi che l'ONU ci aveva detto in una risoluzione che non potevamo vendere a Israele e che noi stiamo continuando a fare nell'ignobbio veramente di questo Governo che guadagna su tutto, guadagna su ogni cosa. Noi questo non lo vogliamo più permettere e vi dico che l'unica tregua che il Movimento 5 Stelle non persegue è questo Governo per avere quella trasparenza sugli equilibri e sull'azione politica che il Governo sta facendo sugli equilibri internazionali che ricate sulla vita politica, etica delle famiglie italiane e sul quale il Governo Meloni sta vigliacamente scappando.